Atletico Ascoli, Avezzano 0-0, Real Monte Rotondo, Tivoli 2-2. Termoli Notaresco 2-0, Campobasso Vasto Girardi 0-0, Chieti United Riccione 2-0, Matese San Benedettese 0-0, L'Aquila Fossombrone 2-0, Roma Asiti Sora 2-2, Vigor Senigalli Alma Fano 5-1. La nuova classifica nel Girone F, Campobasso 58 punti, San Benedettese 53, L'Aquila 52 punti, Avezzano 47, Vigor Senigalli a 45, Notaresco 43, Roma City e Chieti a 42 punti, Atletico Ascoli 36, Fossombrone Sora 34 punti, Termoli 32, United Riccione 31, Tivoli 30, Real Monte Rotondo 29 punti, Alma Fano 24, Vasto Girardi 23, Matese chiude a 22 punti. Real Monte Rotondo, dato corto di sinistra all'area di rigore, Montesi, trasporto in mezzo alto in cross, attenzione a De Marco che ha provato a girare di testa, non era facile, impreciso, tra l'occasione per la Tibur. E altri movimenti che partono dal limite dell'area di rigore, c'è Pellegrini a destra, Maurizzi va al cross, colpo di testa vincente, vantaggio Tibur, Macera fuori gioco. Cerca di Vestinicchi, il pallone scorre, Vestinicchi con l'esterno verso Maurizzi, pallone a centro, attenzione, pallone arriva Pellegrini, Pellegrini caccia in diagonale e trova il vantaggio per la Tibur, stavolta è tutto regolare, Pellegrini porta avanti la squadra Tiburtina, prova ad uscirne palla, il piede mele d'Andri, arriva anche malvessuto a dare supporto, però il pallone è corto, eccolo lo slovacco, attenzione al pallone all'interno dell'area di rigore, doppio rimpallo, sta arrivando di nuovo malvessuto, poi conclusione a fil di palo, campo, in tutto ok, si può giocare di nuovo, occhio a questi movimenti davanti alla linea di porta di Zappala, crossa da quelle parti, Zappala si arriva con il pugno, forse ha subito fallo in attacco, è così, intervento di Valentini che aveva capito tutto, Pellegrini di nuovo Zappala, pressa Sperzanti, attenzione a Zappala che scivola, attenzione Sperzanti, si allunga, mamma mia che brivido, stava per fare un disastro Zappala. Solito schema di prima, con il cross di Recucci, colpo di testa, Zappala sulla linea, ha salvato, che parata, anzi il pallone ha barcato totalmente la linea, allora Real Motelotondo ha pareggiato. Zappala da Banderina, stavolta da destra, un primo Ulizzi, pal cross con il destro, colpo di testa da allontanare di Recucci, poi quello di Manca liberare l'area, Grossi si coordina, fa partire il destro volante, impreciso non era facile. Si muove Manca, che recine lascia un po' a metà strada il pallone, prova ad approfittarne, ed è Marco che la perde, allora attenzione a Meledandri, riesce comunque a crossare in mezzo, malvestuto, allunga il piede sinistro, non riuscendo per inquadrare la porta con un angolo stretto. Tato, allora, allontanato da Fatati, a lottare Vestenicchi, che ha buttato a terra Primasso, attenzione, che l'arbitro del cartellino rosso in mano ed espelle Vestenicchi. Allora rimane in dieci la Tibura, nel momento cruciale. Ponto Grossi, occhio anche a Diem, Gross, al centro dell'area di Regolo, e poi ne scorre, e finisce in rete. Vantaggio della Tibura, nonostante l'inferiorità numerica. Ti regala poi il possesso, forse no, perché c'è Albanesi che fa un ottimo lavoro. Albanesi, altro lancio lungo, trattenuto, forse Montesi, va a lottare per rotta. Occhio a Riosa, però d'alzare l'intervento dell'area di rigore, arriva Zapala. Meledandri va in verticale, Meledandri messo giù. Attenzione al pallone che si impenna, il colpo di testa, poi quello di Rioso. Occhio a Squersanti, la posizione regolare, uno contro uno con Jürgens. Costa al centro, secondo ballo, colpo di testa, e c'è la rete del pareggio nel finale per l'Almontero Tondo. Con un braccio, ma il recupero è scaduto dopo dieci minuti, quasi undici. Oltre il novantesimo si chiude così, Real Montero Tondo-Tivoli è due a due, un punto a testa. Nell'anticipo della ventottesima giornata allo stadio Don Mauro Bartolini, tra Atletico, Ascoli e Avezzano, termina 0-0. Un punto, forse, che scontenta un po' tutti i marchigiani per la conquista della salvezza. Gli abruzzesi, invece, rischiano di perdere terreno nei confronti delle battistrata. E settimana prossima, al De Marsi, c'è il derby con l'Aquila. Dopo le prime fasi di studio, Eminicucci dà la distanza a impegnare Brusca, con un intervento apparentemente innocuo che fa trasalire i tifosi abruzzesi. Sempre l'Atletico Ascoli ci prova al ventesimo, azione convulsa in area, che si risolve però in un nulla di fatto per la squadra marchigiana. Dalla parte opposta, Asse, Tunkara, Verna. Pompei risponde presente. Ancora i biancoverdi spingono. Ferrante prende la mira. Palla di poco alta. L'Atletico Ascoli vuole il gol del vantaggio. Traini, Minicucci, Brusca disinnesca. Proprio allo scadere dei due minuti di recupero nella prima frazione, calci punizione pericolosissimo per l'Avezzano. Verna appoggia per De Silvestro. Fuori di poco. Nella ripresa i padroni di casa entrano con il piglio giusto. Traini svicola in area, murato all'ultimo della difesa avversaria. Sul proseguo dell'azione, Minicucci dal limite prende la mira. Fuori non di molto. Ancora i bianconeri vogliono mettere la freccia del sorpasso. Olivieri, dei 25 metri, impegna Brusca in un duplice intervento. Il match è avaro di emozioni e non si sblocca alla mezz'ora sul ripartenza. Gurrini impatta con il Mancino, ma l'ex Pineto calcia alto. E tra qualche episodio da Maviola che fa imbufalire il pubblico di casa e qualche tentativo belletario dell'Avezzano, la gara scorre via senza sussulti e dopo quattro minuti di recupero termina 0-0. Ma il comune mezzo Gaudio forse questa volta no per ambedue le formazioni. Roma City ha solo planato in questo campionato. Mai un picco vero e proprio, mai una discesa ardita. Serve smuovere qualcosa, ma il Sora da neopromosso e con merito vede la salvezza diretta e vuole ancora lo sfizio del colpaccio. È primavera, la svolta di una stagione. Buona domenica da Gabriele Cascella. Questa è Roma City-Sora, ventottesima di Serie D. All'indietro riesce a colpire bene il pallone. In Gretolli prolunga quasi di torretta verso Di Renzo che lotta, prova a portarla via. Alla fine ci riesce Mastrantoni. Di Renzo, zona tiro, poi in buca. La palla è buona per il tocco morbidissimo. Di Bonello che porta avanti la Roma City subito. Allora, vediamo se sono stati bravi a risalire dalla corrente quelli della Roma City. Artur Diniz è in gioco secondo l'assistente. Lo scarico di Renzo è in zona tiro. Si prepara la conclusione che sbatte sulla schiena di un difensore del Sora. Si impenna. Marcazona il Sora. Muove il pallone capece. Lo scarico per Di Renzo. Alto. E Di Renzo. Angolo battuto velocemente. Messo dentro. L'area di rigore di testa. È andato in cielo Di Renzo. Ma è tutto fermo. Offside. Va di Giglio. Sopra la barriera. Eccola qui. La prima parata di Di Chiara. che si allunga sulla sua sinistra. Ci mette le mani. Palla molto alta. Attenzione a Franco Verón di testa. Parabola diabolica. Che batte Di Chiara. 1-1. C'è Lord Martei che allarga. Tribelli. Lob dentro l'area di rigore. Didio aggancia. Un pallone impossibile. Poi si gira dentro l'area di rigore. Un gol fantastico di Didio. Che uncina. Un pallone impossibile. E lo fa ricomparire alle spalle di Di Chiara. Artur Dinis. Due di recupero. 120 secondi. Ancora da giocare in questo primo tempo. Trasciani. Mangia la merenda all'avversario. Guadagna il fondo. Palla messa forte. Dentro l'area di rigore. Non ci credo. Cosa? Si è mangiato Di Renzo. Di Giglio. Riparte il Sora. Attenzione perché corre veloce. Tribelli. Non lo tengono dentro l'area di rigore. C'è Didio tutto solo. La palla arriva proprio al numero 10. Che si coordina e calcia. Miracoloso di Chiara. Ma sì. Di Codomance valuta le opzioni migliori. Sceglie la verticale verso Di Renzo. Che vince il rimpalle. Dentro l'area di rigore. Di Renzo. Di Renzo morbido. Di Renzo solo esterno della rete. Rade le maglie arancioni. Praticamente costantemente uno contro uno. Con quelle bianconere sulla linea difensiva. Bonello. Uno sguardo al centro. Adesso i centimetri sono tanti. E di testa la presa di Renzo. Matola all'Or Martei. Che lo porta un po' a spasso. Capece. Non si addormenta. Anzi sì. Grande intervento da dietro di Capparella. Che scippa un grande pallone a Capece. E punta anche la porta. Tre contro due. Capparella. Calcia. Ben dieci. Todisco. Cross altissimo al secondo palo. Becale e Ingretogli. Quasi a darsi fastidio. Sono troppi quasi. Quelli della Roma City. Ingretogli mette dentro. Sparacello. Stop. Poi calcia. C'è stata l'eviazione. Non è arrivata la testa di Di Renzo. Sarà corner. Va dentro. Vasco. La palla sfila. Il miracolo di Crispino. E alla fine. La buttano dentro. L'ha messa dentro. Indovinate chi? Di Renzo. Che torna a fare Di Renzo. Escrivelo a due. Di rapina. La palla filtra. Di Renzo. Dentro l'area di rigore. Contro cross. Al secondo palo. Ingretogli. Anticipato. Non è finita. Calciavasco. Sparacello. Alto. Però non può evitare questa rimessa laterale. Già battuta della Roma City. Bonello. Inestirà da cross. Di Becale. Sparacello. Crispino. Di puro istinto. Non è finita. Di Renzo. Calcia. Doppia occasione per la Roma City. Il più lontano possibile dalla sua porta. E ci riesce. Perché Alessandro Femia. Manda i titoli di coda. Su Roma City. Sora. Due a due. Piro tecnico e frizzante. Tre punti e bel gioco. Il Chieti. Oggi in completo bianco. Mette sotto anche il Riccione. Centrando il terzo successo consecutivo. Della gestione Luiso. I neroverdi salgono a quota 42. Virtualmente in zona franca. E accorciando dalla zona playoff. Il quinto posto ora dista tre punti. Luiso deve rinunciare a Salvatore. Per un problema al flessore. Un'assenza pesante. Perché il giocatore era in gran forma. Domenica scorsa aveva firmato la vittoria. A Fossombrone. Out anche il terzino Caterino. Un altro che si stava ritagliando. Un ruolo importante. Senza i due fuori quota titolari. Il tecnico neroverde è costretto a stravolgere la formazione. In porta torna l'under Antignani. In campo dal primo minuto anche di Sabatino e Tortora. La buona notizia è il ritorno di Vesi e Forgione. Che hanno scontato la squalifica. Il Riccione è in piena crisi dei risultati. E tecnica con i cambi in panchina. Dove ora siede Salvatore Utro. La squadra romagnola è reduce da due pareggi. E tre sconfitte nelle ultime cinque partite. E con i play-out dietro l'angolo. Temibile la coppia d'attacco formata da Maio, Expineto e Ferrara. L'ex di Ambo è infortunato. Dirige Spina di Barletta. Il Riccione inizia meglio. E al terzo potrebbe fare male con Matteucci. Che sotto visura non colpisce bene. Alzando troppo la mira. E Chieti si scuote. Inizia a prendere campo. E a lottare su ogni pallone. Soprattutto a centrocampo. Una prima risposta arriva al sedicesimo. Con una conclusione di falla. Bloccata da Rossi in due tempi. Tre minuti dopo il vantaggio nero-verde. Mercuri lavora un buon pallone. Traversone sul secondo palo. Palla al limite dell'out. Forgione inventa un assist per Gaillet. Che deve solo spingere la palla in rete. Prima gioia per il centrocampista Gambiano. Arrivato dal mercato di gennaio. Il Chieti continua a macinare gioco. Mentre il Riccione sembra accusare il colpo. Molto bello il raddoppio. Per come è stato costruito. Vesi innesca con un lancio lunghissimo e preciso. Forgione. Controllo a seguire. Sontuoso passaggio a falle che gonfia di nuovo la rete. Il giocatore va ad abbracciare la curva Volpi. Decima rete in campionato per lui. Nella prima frazione di gioco non accade più nulla. Da segnalare solo un cartellino giallo a console. Con le immagini di Alberto Capo passiamo alla ripresa. Stessi 22 in campo. Ma Riccione che preme sull'acceleratore per riaprire la gara. Quarto minuto. Tiro secco di Maio. Antignani blocca. Ancora Riccione pericoloso al tredicesimo con Ferrara. Bravo l'estremo neroverde a sventare. Forze fresche per gli ospiti con Silla e Pellacani. La pressione continua ma il Chieti si difende con ordine. Primi cambi anche per Luiso. Dentro Sueva per Mercuri e Mazzei per Forgione che esce tra gli applausi a sottolineare la prova maiuscola. Quindi altre sostituzioni. Nel Chieti entrano Alessandro Gatto e al novantesimo esce anche Fall che poco prima avrebbe potuto far segnare ancora Gagliè. Ma forse sarebbe stata punizione troppo severa per il Riccione. Giovedì bisogna recuperare forze fisiche e nervose. Il Chieti è infatti atteso a Riviera delle Palme dalla San Benedettese in lotta per il primato. Il Riccione ospiterà il Termoli in uno scontro salvezza molto importante. La Vigor Senigalli a strapazza 5-1 il Fano nel derby del Bianchelli al termine di un match che ha visto il Rosso-Blu condurre sin dall'inizio nel punteggio. Ma dopo aver chiuso la prima frazione sul doppio vantaggio e sciupato occasioni in serie e in apertura di ripresa per mettere al sicuro il risultato. Ha invece consentito ai Granata di accorciare le istanze tenendo aperta la sfida fino alle battute finali quando la doppietta dell'ex broso permetteva di chiudere i conti. Dopo una stagione passata ogni domenica a fare i conti con le assenze per questa sfida il tecnico di casa Clementi è costretto a fare a meno del solo squalificato Maggi Galluzzi mentre Manoni rispetto alla bella prova con il campo basso decide di sostituire diverse pedine in mezzo al campo con Gonzales che torna a titolare per ispinare la manovra Granata. Dirige Marinoni di Lodi. La Vigor parte con determinazione e personalità imponendo subito il suo ritmo alla sfida e dopo 4 minuti è già in vantaggio. Cross di Gambini dal vertice destro dell'area sul secondo palo dove duellano Mancini e Ballello il pallone resta nella disponibilità di Keriota che senza pensarci calcia forte, guerrieri ribatte di piede ma pesaresi è il più lesto di tutti a raccogliere e infilare in girata la porta ospite per l'1-0. Subito sotto come 7 giorni fa l'Alma cerca di prendere le misure a una Vigor che ha approcciato meglio la partita ma dopo aver corso un grosso rischio con un pallone perso al nono davanti alla propria area con i rosso-blu che non riescono ad approfittarne superati il quarto d'ora arriva il raddoppio. Al sedicesimo pesaresi imbuca bene per Keriota che dal fondo mette in mezzo la difesa Granata ribatte corto e dal limite Capezzani infirma col destro il gol dell'ex infilando ancora guerrieri per il 2-0. La Vigor a questo punto prova ad amministrare con l'Alma che ci mette parecchio a riorganizzarsi e solo nel finale i tempi i ragazzi di Manoni riescono a rendersi davvero pericolosi. Al trentottesimo un bello schema a calcio d'angolo permette a Pier Federici di incunearsi da destra in area di rigore per cercare la conclusione da posizione defilata Gambini si immola e manda ancora in corner. Sul successivo tiro alla bandierina Gonzale spensca la testa di Urbinati che però non inquadra la porta. La Vigor capisce che non è il momento di abbassare la guardia e rialza il baricentro chiudendo la prima frazione in avanti. Dopo l'intervallo i ragazzi di Clementi partono subito all'assalto e la porta ospite collezionando quattro occasioni in cinque minuti. Prima che Riota si vede Murato in corner dalla schiena ai mancini il suo sinistro. Sul successivo tiro alla bandierina è sempre il set di casa a pennellare per Pesaresi che incorna a colpo sicuro ma alle grucci allontana sulla linea. Al secondo minuto è Ballello a sciupare un'ottima occasione in contropiede mentre al quinto Beo dopo una bella percussione dalla sinistra alza troppo la mira dai 20 metri. Il 3-0 sembra nell'aria e invece arriva inaspettato il 2-1. Al settimo Culivali va via di forza a sinistra e dal fondo mette in mezzo Pier Federici è puntuale a correggere alle spalle di Roberto accorciando le distanze. La rete dell'Alma accende gli animi in campo con la scintilla che scocca al nono dopo una serie di contrasti duri sulla trequarti ospite con Marinoni che ha il suo da fare per riportare la calma tra gli uomini in campo. Si lotta con grinta su ogni pallone in ogni zona del campo con l'Alma che a questo punto crede nel pareggio ma a ristabilire le distanze arriva al diciottesimo il rigore assegnato da Marinoni ai Rossoblu che punisce l'intervento di Mancini in area su Pesaresi scatenando le proteste vibranti dei Granata. Il capitano Rossoblu non si lascia distrarre e dagli undici metri spiazza Guerrieri per il 3-1. L'Alma non si dà per vinta e prova ancora a riaprire la sfida ma stavolta la Vigor non si concede distrazioni e anzi punge più volte di rimessa trovando a cinque minuti dalla fine il quarto gol con Broso che raccoglie al limite la respinta dei Guerrieri sul tiro di Geriota firmando il 4-1 che chiude i conti. Due minuti dopo lo stesso ex capitano dell'Alma punisce ancora i suoi ex compagni centrando la doppietta personale che fissa il risultato finale sul 5-1. Il risultato manda invisibilio il pubblico di casa e riporta la squadra al quinto posto in classifica mentre Granata escono battuti con un punteggio pesante soprattutto per il Morale con il Fano che resta il terzo ultimo posto in classifica e per il quale questo punto diventa decisivo il prossimo derby con l'Atletico Ascol. L'Aquila vede la Samba solo i tre punti il campo basso invece è lontanissimo a quota 8 soprattutto considerandole solo sette gare da qui al termine. La sconfitta di Sora è un macigno nello stomaco ma la formazione di Cappellacci deve necessariamente tornare al successo per scacciare qualche fantasma apparso in terra ciociara. Giovedì poi c'è il derby con i cugini marsigani quindi meglio arrivarci con tre punti in più in graduatoria e con una condizione mentale migliore. Michelin infortunatosi in settimana al gomito non viene nemmeno convocato e allora in porta fa il suo esordio l'ex Vasto Girardi Cerroni. Lo schema tattico rimane il 3-4-3 con i restanti dieci già protagonisti nella passata giornata. Dall'altra parte Fucili deve fare a meno di conti appiedato dal giudice sportivo tra i titolari figura Lorenzoni proveniente proprio dalla formazione aquilana durante la sessione invernale di mercato. Il tutto per un classico 4-4-2. L'Aquila parte bene e dopo appena sei minuti la sblocca. Stavolta i pali non interrompono la corsa del pallone calciato da Angiulli come successo a Sora. Allora il Gran Sasso d'Italia può esultare per l'immediato vantaggio di ottima fattura. Rivediamo la conclusione del 6-rosso-blu. Attorno al 14esimo Marcheggiani ha sul mancino il pallone del 2-0. Lo scambio in area è ben riuscito ma il sinistro del numero 9 finisce fuori dallo specchio da ottima posizione. Nemmeno un minuto e anche Giulio Dori ha l'occasione per entrare nel tabellino ma Marco Antonini ben posizionato respinge l'insidia. La forza impronese fatica ad alzare il baricentro ma la formazione di fucili testa dalla distanza i riflessi di Cerroni. Il numero 22 respinge un fendente di Bianchi portatosi in zona offensiva attorno al minuto 21. Banegas scappa via a Leonardo Pandolfi e il 4 con un'entrata in ritardo butta giù il 10. Dal piazzato seguente Marco Antonini dice no a Banegas spedendo in angolo. Dallo stesso corner il pallone finisce nei pressi di Bellartinelli che viene anticipato forse irregolarmente da Bianchi. Ma Santeramo lascia correre. Rivediamo al rallenti. Al 34esimo l'Aquila guadagna ancora una punizione sempre a Banegas e prova a impensierire Marco Antonini. Quest'ultimo è ancora attento smanacciando in angolo. A 3 dal 45 l'Aquila invoca un calcio di rigore quando Banegas pennella per Marchegiani che sul taglio sembra scivolare dopo una trattenuta. Con le immagini di Nico Centurame analizziamo al replay l'accaduto. Il primo tempo termina qui. In apertura di ripresa quasi all'improvviso la forza empronese va vicinissima al pari. Le maglie difensive aquilane si allentano e Fagotti ne può approfittare. Per la gioia dell'intero stadio il destro del 10 finisce in curva aquilana. L'Aquila che fino al minuto 20 subisce il piglio degli ospiti soprattutto per alcuni appoggi errati nella zona mediana. Cappellacci e Fucili poco dopo decidono di cambiare qualcosa. Esce l'ammonito Pandolfi ed entra Procacci mentre per gli abruzzesi Mandrelli prende il posto di Giulio Dori. Nel buio del gioco e nel momento in cui gli ospiti assaporavano la possibilità del pari ecco il raggio di sole targato Banegas. Tralasciamo la descrizione lasciando parlare solo le immagini. Applausi scroscianti che continuano anche dopo quando Angiulli riceve la meritata standing ovation dei tifosi rosso-blu. Al 42esimo un quasi inoperoso Cerroni si becca l'ampia sufficienza dopo il colpo di Reni su tiro del neoentrato Palazzi che col destro voleva e poteva dimezzare lo svantaggio. Non succede più nulla, nemmeno nei 5 minuti di recupero. L'Aquila esulta stavolta anche per i concomitanti risultati di San Benedettese e Campobasso. Dallo Stadio Pascualino Ferrante di Pedimonte Matese, Matese San Benedettese è una gara molto delicata. Entrambe sono in cerca della vittoria vitale e fondamentale per riscattare le rispettive sconfitte di domenica scorsa e per tenere ancora i viti in vita i rispettivi sogni, quelli di salvezza per il verde e oro e quelli di promozione per il rosso-blu. Partiti Cross da parte di Pagliari Senigallesi Arrigoni ci prova, tiro a giro Crossi quest'ultimo per Bragaglia che scivola pallone lungo per Senigallesi che la rimette in mezzo allontana la difesa verde e oro e a terra un giocatore della Samp si prosegue L'Angellotti per il ricamato scambio 3-2 L'Angellotti c'è la chiusura provvidenziale Ricciardi ad uscita per Galesio di testa al lato Galesio ha colpito di testa ma non ha centrato lo specchio della porta ancora Galesio diagonale tiro cross al limite Bragaglia è quasi un assist questo stop mancato di Bragaglia per D'Andrea prova a crossare di sinistro ci riesce Senigallesi prova la conclusione di sinistro Murata angolo per la Samp Fabrini ancora Fabrini cross in aria per il colpo di testa da parte di Scimia alla Fabrini l'unità dell'aria Fabrini in aria Fabrini ancora prova a calciare di destro conclusione deviata angolo eccolo che arriva finisce qui il primo tempo di Matese San Benedettese chiuso sullo 0-0 un'occasione per parte al secondo via Senigallesi Arrigoni sul secondo palo esce allontana con i pugni Rinaldini Arrigoni sul primo palo c'è Galesio di testa di sinistro in avanti Zopoletti in anticipo su D'Andrea D'Andrea di sinistro al volo peccato Scimia attaccato da ricamato poi prova a calciare Passewe recupera la difesa rosso-blu cross anzi è un tiro da parte di Lancellotti si porta in mezzo al campo destro di Fabrini alto cross dell'Iberiano per il colpo di testa di Galesio che non arriva poi il sinistro di Lancellotti di poco a lato si distende si rende pericoloso attenzione Fabrini sulla sinistra sinistro alto Bragaglia Galesio prova la conclusione di destro centrale vasto girare di zero attenzione pallone per Tomasini che di tacco per Bartiniello che calcia di sinistro tiro deviato Manfrellotti a terra Passewe si prosegue Martiniello prova a tirare si riprende tiro a giro non ci arriva Pessola Langellotti sponda di Manfrellotti per Passewe che di destra finisce zero a zero una squadra una partita equilibrata il Termoli doveva vincere per cercare di uscire dalla zona rossa della classifica e alla fine lo ha fatto anche con autorità contro una squadra il notaresco certamente tignosa la cronaca al settimo minuto del primo tempo il Termoli vicino al vantaggio Bursio dà lo sviluppo di un'azione sulla sinistra di Curtosi mette al centro area palla che attraversa l'intero specchio della porta sguarnita ma nessuno riesce ad intervenire per mettere il pallone in rete a nono Hernandez va via in dribbling velocemente entra in aria e si libera il tiro a giro ma Curtosi ancora una volta in tuffo evita problemi per i suoi al tredicesimo si vede il notaresco con un tiro di Scipioni che comunque va fuori e siamo giunti al ventiduesimo quando arriva il primo squillo del termoli calcio Hernandez su un cross invitante di Francesino Usfar dalla sinistra messa la palla in aria lui Hernandez che non è certamente fisicamente un corazziere si erge di testa e beffa il portiere della formazione avversaria siamo al secondo tempo ci prova comunque subito il notaresco con Francoforte ma è un tiro che non crea problemi a Lombardo e arriva all'undicesimo il disastro difensivo del notaresco nell'aria piccola Bursio che era lì in agguato riceve un pallone così inaspettato colpisce di testa e a porta incredibilmente sguarnita segna per il 2-0 del terreno al ventiseesimo ha una grandissima azione di rimessa che vede Hernandez fuggire in velocità supersonica sulla destra del campo entra in aria vede la corrente Bursio libero al centro dell'aria il quale con un rigore in movimento tira a botta sicura ma Kurtosi si supera ed evita così il 3-0 ma c'è ancora tempo per un'altra azione pericolosa del Termoli al 32esimo con Barti che in dribbling è sulla linea del fallo di fondo riesce a mettere un pallone in porta stava andando dentro la rete ma all'ultimo momento una gamba di un difensore del notaresco evita il 3-0 e finisce così senza nessun altro squido il Termoli porta tranquillamente a casa questa vittoria che davvero per la prima volta in questo campionato li vede fuori dalla zona pericolosa e adesso si guarda giovedì quando si andrà a Riccione per cercare di vincere un altro scontro diretto dall'Avicor Stadium di Selva Piana è la ventottesima giornata campo basso Bastogirardi il derby del Molise perde il pallone attenzione lo recupera Coquen Coquen da solo in area ancora Coquen prova la mette dentro Coquen anticipato Di Nardo piccolo primo brivido per il Bastogirardi poi Panaro allontana bassissima la difesa quasi a voler coprire lo specchio della porta e non permettere la conclusione di Maldonado che prende la rincorsa Maldonado la conclusione centrale bella la scucchiaiata a trovare Di Nardo prova il controllo il numero 9 ancora Di Nardo appogge per Pacillo va come un treno Pacillo tutto da solo pallone in area verso Coquen il destro sporco poi Di Nardo la ribattuta non ci arriva Grandis non ci arriva Grandis un altro acuto del campo basso che resta in attacco lo fa con Parisi il traversone sul secondo palo smanaccia Servalli Parisi Grandis la limite dell'aria ancora Grandis un rimpallo che lo favorisce Coquen può andare la conclusione ho provato il tiro a giro Coquen non l'ha presa benissimo forse la pinta di Di Nardo per far saltare la barriera per far andare Maldonado chi lo sa vedremo la rincorsa di Di Nardo a butta bassa la deviazione Lombari Lombari punta l'uomo prova la conclusione la sfera che arriva Di Filippo è tutto regolare ancora Di Filippo con all'esterno Maldonado il tocco morbido non ci arriva nessuno Grandis il sinistro di Grandis salto sopra la traversa traversone occhio Gonzales salta anche Coquen il contrasto alla meglio giocatore francese Coquen alza la testa può provare a puntare Ruggeri pallone in aria anticipato Grandis calcio d'angolo la traversone primo palo stacca Di Filippo Romero con all'esterno Di Nardo il pallone per Serra Serra forse la conclusione alta sopra la traversa Maldonado Lombari di Filippo del movimento di Romero Romero prova l'incornata pallone in aria non salta nessuno Grandis si da controllo la conclusione di Grandis Serballi la deviata calcio d'angolo Serra Parisi Parisi dove vai Frank dove vai Serra trova il tocco per Romero di testa Romero al lato al lato di Filippo Di Nardo di Nardo alto Romero se la va a prendere difende la pallone il lancio per Di Nardo dai Anto dai Anto dai Anto dai Anto dai Anto dai Anto e finisce qui 0 a 0 0 a 0 termina questo derby tutto molisano grazie a tutti per la